Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Stasera siamo usciti perché vogliamo andare a mangiare i takoyaki e vogliamo vedere se lo troviamo qui a Shinjuku. Quindi questa sera verrete con noi, ok? Ciao, un bacione! Siamo arrivati a Stokyo! 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 rosso che vedete è lo zenzero rosso e va messo sopra in tutti i takoyaki questa invece è l'erba cipollina tagliata a pezzettini piccoli 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 ecco che inizia a separare la pastella dalla piastra e divide tutti i takoyaki adesso li gira e li fa cuocere anche dall'altro lato hanno una manualità pazzesca ragazzi guardate come li gira eccoli cotti e pronti per essere mangiati ecco qui la mia bellissima barchetta con sei takoyaki pronti per essere divorati bellissimi è davvero un bellissimo piatto ragazzi ragazzi sono buonissimi all'interno ci sono come si chiamano pezzettini di polipetti eh polipetti ok verdure si tutte verdure buone e questo qui è pesce essiccato essiccato infatti si muove guardate guardate come si attacca e poi c'è la salsa teyaki che è questa scura e questa chiara è una specie di maionese si può dire comunque buonissimo anche se a me sono piaciuti di più quelli che abbiamo mangiato ad akiavara questo è un po' meno ragazzi buonissimi i takoyaki sono buonissimi solo che ve l'ho detto ad akiavara per me erano molto più buoni ma qua mi sembravano tipo crudini più mollicci la erano invece più buoni non so comunque per questa sera è tutto ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi